Primo pallone, si inserisce Yulman, Coda, palla sulla destra, tocca per strefezza, anticipato da Valeri, ripartenza cremonese, veloce con buon aiuto, dopo la sponda di Ciofani, va a buon aiuto, uno contro uno, cambia direzione veloce, poi calcia! Fuori di poco, primo spunto al numero 10, ha un problema. Scorsano due gol molto belli, Troppo Ordenone-Pisa, buon aiuto, cerca lo scambio con Baez, la palla di ritorno è troppo, va verso l'interno, ha cercato Coda, Ravanelli lo anticipa. Ciofani, tocco bello di tacco, ancora per buon aiuto, uno-duo di qualità, va a buon aiuto, poi cerca un compagno, ma non c'è, ma la testa bassa perché ne secchi, rinvio lungo. Con troppa facilità però, invece ha creato questa opportunità da pala inattiva. Bello colpo di tacco di buon aiuto per Baez, va veloce Yulman, puntata fuori, calcio d'angolo per la cremonese, partita piacevole. Scorsano ribattuto rapidamente, buon aiuto, però se in zona Ucolli lo anticipa Gendrei, poi Castagnetti, uno che sa che riesce lui questa volta a riprenderla dopo il contrasto con Baez. Castagnetti, avanti, buon aiuto, tocco non preciso, sicuramente ragazzo di maggior qualità. Baez lì in quella zona, momento della battuta del calcio di punizione, coperto bene il corridoio, Tuya, Castagnetti, testa, buon aiuto, petto, Valeri. Superano il piccolo strefezza, bella palla con l'esterno, ancora per Valeri, molto bravo, buon aiuto, è sempre molto. Ray poi picchia. Buon aiuto, forse ciò fanno in fuorigioco, anticipato, si è alzata la banderina fuorigioco, Baroni giusta. Baez, a destra Sernico, l'attacca anche lui, più bloccato in questo inizio, buon aiuto, cerca spazio da quella parte, doppio passo, attesa, poi centrale. Trova l'imbucata per Baez, cross forte, secondo palo Gendrei allontana, molto bravo, Valsania, potrebbe tornare indietro, preferisce andare avanti, buona idea, ha trovato Baez, c'è Zanimacchia. Va da lui, palla centrale, buon aiuto, anticipa anche il compagno, ma calcia malissimo. Buon aiuto, Baez, abbraccio di Sernicola, Valsania, Castagnetti, buona palla centrale, bravo, Cioffani di prima, taglia Zanimacchia, buon aiuto, ha provato ad andare da lui, la palla non passa, Castagnetti, Baez, Sernicola accompagna, Baez e crossa, verso Zanimacchia anticipato. Buon aiuto, buon aiuto, gioca adesso, dribbling, va giù, al limite la rigore, fallo di strepezza, punizione cremonese. Sulla barriera, la punizione è buon aiuto, coda, fa bene anche il difensore, calcio d'angolo però, VAR e Kulimbrek. Lontrea, doppio ingresso, staff medico, buon aiuto, al limite, entra in area di rigore, doppio passo a sinistra per Zanimacchia, dentro anche Baez, il cross è molto lungo. Sta provando con continuità in quella posizione, Corsona, Cosenza, sottegnato anche Baroni, coperto un ruolo diverso, stava a 5 al centrocampo, largo anche mezzala. Buon aiuto, ha spizzata bella per Ciofani, Tuglia, molto bravo. Ha fatto una buona partita, c'è il fallo su Olivieri, secondo Baroni, lancio verso, buon aiuto, tocco di testa centrale, Tuglia, Juhlmann. Bocco, brutta idea, la toccata Valsania, la gioca Baez, a sinistra veloce, buon aiuto, va con Zanimacchia, la gioca Zanimacchia, adesso buon aiuto, gli porta via il pallone, punta. Primo dribbling, va contro Gendrei, Zanimacchia, si chiude l'1-2, la difende al limite, cerca un tunnel. L'inserimento anche di Juhlmann, vada solo Olivieri, poi vada a coda, ha letto l'intenzione dell'avversario Castagnetti, molto bene, buon aiuto. Di testa, non arriva Zanimacchia, però metterla giù strefezza, Zanimacchia li porta via il pallone, e attacca, vada Valeri, la palla non passa, buon aiuto, giù al limite, punizione, fallo di Juhlmann. Giocata già vista, buon aiuto, c'è di nuovo lui. Sempre sulla barriera, non ha calciato bene, Valzania, c'è spazio per andare in porta, va in porta! E la Cremonese sblocca il risultato, Valzania, testo perfetto, 1-0. Punizioni, buon aiuto sulla barriera. Maier, deve crescere in mezzo al campo, Juhlmann, pressato, perde palla, buon aiuto. Cambio gioco in zona, Baez, calcio in porta? Per un attimo ci ho pensato. Arriva buon aiuto, alle spalle di Ciofani, cercato, forse in fuorigioco, dall'altra parte c'è un'opportunità, buon aiuto, va per Zanimacchia! Corto il polo di coda, rimpallo, Gallo, Baez, messo male, il Lecce, contropiede per la Cremonese, con buon aiuto, in 2 contro 1. Arriva anche Zanimacchia in fuorigioco, allora Baez, 3 contro 3, Baez ancora all'altra parte, rimpallo, palla buona, Baez con fortuna, Baez, palo! Buon aiuto! Il cross, anzi un tiro in porta! Bello, bello, bellissimo! Per zona primo palo, prova a toccare Hulmand al limite, Gendre, botta, schiena di Ravanelli, Lecce è messo ancora malissimo, altra ripartenza Cremonese con buon aiuto. Centrale, veloce Valeri, difende Gallo, torna a Lecce, rapido, ma anche Baez è molto rapido. Dentro c'è Valeri, Baez va da lui, la palla è lunga, Valeri! 3 a 0, Cremonese, contropiede, perfetto, il Lecce non c'è!